Allora è un valore alto da un punto di vista sociale e per il fattore lavoro perché in una fase di trasformazione così importante e profonda del settore della gestione dei rifiuti a livello nazionale dove si vanno a costituire soltanto tre ambiti territoriali con tre gestori unici per un periodo così lungo, poter lavorare nella garanzia delle prospettive per il mondo del lavoro e per la qualità del servizio ma nella salvaguardia e nello sviluppo del mondo del lavoro è chiaro che va da sé che è un risultato importantissimo. Ma i dipendenti, gli addetti non perdono nulla? Gli addetti non perdono niente in questo momento, non perdono niente perché si parte dall'applicazione di alcune leggi e di per sé garantiscono. In più con questo accordo si sono aggiunte una serie di garanzie ulteriori d'accordo con il gestore che è l'autorità d'ambito perché i lavoratori possano vivere insieme a noi e l'azienda sarà la giudiatrice questo passaggio non facile però nel massimo delle garanzie senza avere nessun trauma sotto nessun punto di vista.